Eccoci qui, siamo con la dottoressa Ilaria Insardi, responsabile sviluppo e gestione network di Coldwell Banker Italy. Benvenuta! Grazie, grazie mille dell'invito. Grazie Luigi. Allora, direi di entrare subito nel cuore del nostro talk. Le chiederei quali sono i vantaggi di lavorare con un marchio internazionale oggi? Beh, senza ombra di dubbio, il primo vantaggio di cui possiamo parlare è la visibilità che il portafoglio immobiliare di un agente immobiliare può avere all'interno di un circuito internazionale. Quindi la possibilità di promuovere i propri immobili all'interno di un network che è ovviamente visibile a un numero incredibile di agenti immobiliari e quindi avere l'opportunità di poter accelerare quello che è il percorso della vendita di un immobile. Diciamo che un altro importantissimo vantaggio è che far parte di un network internazionale può accelerare quella che è l'evoluzione che oggi gli agenti immobiliari stanno effettuando, cioè questo passaggio tra l'essere agente immobiliare e consulente immobiliare. Questo perché? Perché soprattutto per chi fa parte di brand che si identificano su un mercato medio-alto come per esempio il nostro, molto spesso è facile riuscire a tirare clienti piuttosto facoltosi che nel corso del tempo possono anche decidere di diversificare i propri investimenti immobiliari e magari decidere di fare investimenti non solo nel nostro paese ma anche all'estero. Quindi avere l'opportunità di presentare loro delle possibilità di investimenti fuori dal nostro paese e anche questo è sicuramente un grande valore aggiunto. Non per ultimo, diciamo che anche dalla nostra esperienza posso dire che proprio perché nell'immaginario collettivo far parte di un brand internazionale permette questa condivisione ad ampio raggio, anche l'approccio con il cliente che deve vendere un immobile sicuramente cambia. Quindi abbiamo degli argomenti in più che possono giocare a nostro favore anche in fase di acquisizione. Ecco, questi sono alcuni di quelli che possono essere i vantaggi di far parte di un brand e poi potremmo stare qui ore a parlarne perché è evidente che anche dal punto di vista di strumenti, di tecnologia, di marketing possiamo sicuramente affrontare il mercato nel miglior modo possibile. Quindi il brand è importante così come la storia del vostro gruppo, ma sappiamo anche che il mercato italiano è molto competitivo, quindi volendo indicare un paio di punti di forza che aiutano ad attirare l'attenzione degli agenti immobiliari, cosa ci direbbe? Sicuramente un agente immobiliare è attratto da, come ha detto giustamente lei adesso, dalla storia del brand, dalle quote di mercato che ha, dalla sua credibilità e da quello che può offrirgli. Ma ancora di più credo che sia attratto dalla possibilità di avere un confronto con chi è competente e conosce molto bene il mestiere, quindi quando si trova in un colloquio, diciamo così, di conoscitivo del brand, devo dire che è molto apprezzato anche il fatto di poter decidere insieme a lui se il percorso che sta facendo è un percorso adatto al nostro brand o se noi siamo adatti al suo percorso. Quindi io credo che anche noi, non solo gli agenti immobiliari, ma anche noi che facciamo sviluppo e gestione del network siamo cambiati, ci siamo evoluti, quindi anche noi siamo in una fase di consulenziale, diciamo, per cui poter dare a un imprenditore degli schemi, delle idee, delle linee guida per capire se effettivamente è quello il percorso più adatto, credo insomma che sia importantissimo. Sì, ci ha parlato quindi di gestione e sviluppo del network. A questo proposito possiamo approfondire un po' quali sono le logiche di crescita della rete che vi siete dati, quantomeno nel medio periodo? Allora, di certo posso dirvi che noi non vogliamo fare la corsa ai numeri, nel senso che non ci interessa essere la rete con il più alto numero di agenzie o il più alto numero di agenti. Noi puntiamo molto sulle persone, quindi crediamo che la cosa più importante sia essere riconosciuti come la rete con i migliori agenti che ci sono sul mercato e quindi tutto quello che noi facciamo è rivolto proprio alla crescita professionale degli agenti, quindi renderli agenti veramente qualificati. Quindi tutto quello che sono strumenti, che sono servizi, tecnologie, competenze, e li mettiamo a loro disposizione proprio per poter crescere il più velocemente possibile e rientrare in questa visione appunto di eccellenza della professione. Si ha detto quindi che investite molto sulla qualità, ma le faccio una domanda. Il cliente finale è in grado poi di riconoscere oggi la qualità? È diventato più esigente, è diventato più scaltro rispetto al passato? Sicuramente sì, il cliente finale è sempre più attento, è sempre più preparato, per cui le risposte devono essere veloci, concrete, esaustive e devono essere basate sulla professionalità e sulla competenza. Quindi a maggior ragione puntare su quello che è la professionalità dei nostri agenti poi fa sì che cresca anche il loro business e di conseguenza anche il nostro. È possibile a questo punto tracciare un po' l'identikit del vostro affiliato tipo? Sicuramente sì, come dicevo prima noi puntiamo molto sulle persone, quindi cerchiamo di entrare in contatto con imprenditori che innanzitutto abbiano la capacità di poter trasferire a loro volta al proprio staff e ai propri collaboratori i nostri valori e quello che noi cerchiamo di portare avanti e quindi, come dicevo prima, una qualità della nostra professione. Imprenditori che abbiano una visione chiara di quello che è il loro progetto perché su questo diciamo che noi diamo molta attenzione nel senso che se il loro sogno è quello di realizzare una struttura con molti agenti, una struttura diciamo stile americano piuttosto che qualcosa di un pochino più piccolo siamo comunque in grado di poterli portare a realizzare il loro progetto quindi l'imprenditore tipo è proprio colui che ha anche voglia di affidarsi a quelle che sono le nostre esperienze e le nostre competenze ma che abbia appunto questa visione un pochino più ampia di evoluzione della professione. Chiudiamo con uno sguardo al 2023, cosa aspettarsi dal mercato? Beh, diciamo che il 2023 sarà sicuramente un anno interessante noi oggi, già adesso insomma, iniziamo ad avere dei buoni ritorni da quello che è il mondo, il mercato del, come dicevo prima, medio-alto e quindi riteniamo che avere uno sguardo interessato a questo tipo di mercato possa fare la differenza. Per quanto riguarda la nostra rete noi stiamo investendo molto in quelli che sono appunto strumenti e servizi da potergli offrire in modo da poter essere sempre più veloci di rispondere a questo tipo di richieste che sempre di più vengono dal mondo internazionale e quindi penso che il 2023 sarà un continuo di quello che stiamo vivendo in questi ultimi mesi. Bene, grazie mille per la chiarezza, dottoressa Ilaria Insardi responsabile di sviluppo e gestione network di Coldwell Banker Italy. Grazie. Grazie a voi, grazie tanto, buon proseguimento. Grazie. 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 Grazie.